Carina von Detten, nome chiaramente non italiano, che cosa è successo il primo di agosto 1863? E' nata la Bayer, quindi quest'anno, per dire meglio, l'anno 2013 sarà il 150esimo anniversario della Bayer a livello mondiale. Quindi il 2013 sarà proprio un anno veramente molto importante. Siamo vicino alle feste, immaginiamo che il 2013 sia una festa, qual è il menù che avete in questo anno? Quindi la Bayer che cosa prepara per il 2013? La Bayer, innanzitutto la Bayer CropScience sicuramente avrà tante cose da portare alla tavola, visto che siamo dedicati all'agricoltura, quindi con la ricchezza delle culture italiane ci sarà tanto. Ma lasciamo a parte i scherzi. Noi abbiamo, come sempre, il nostro compito di contribuire alla crescita del settore dell'agricoltura in Italia. Quindi abbiamo nuovi prodotti, il più grande sicuramente è quello per il vino, che si chiama Luna Privilege, per una malattia molto importante, la botrite, nella produzione del vino. E poi abbiamo i nostri progetti di sostenibilità, che sempre lo stiamo sviluppando, per prendere l'esempio del progetto Granfiliera, che è il suo grano duro, molto importante per l'agricoltura italiana. Lì si tratta di trovare il modo giusto per creare una produzione sostenibile, iniziando con la scelta varietale, l'impiego degli agrofarmaci e poi anche la fertilizzazione. E come diamo noi, come azienda, l'interpretazione alla sostenibilità, che deve essere anche una collaborazione che porta valore, in questo caso ci sono varie partner, fra cui anche il pastificatore di Vella e questo progetto. Fino a qualche anno fa la chimica era chimica, cioè serviva soltanto per produrre di più e fare profitto. Da qualche tempo a questa parte invece le cose stanno un po' cambiando. Lei è amministratore delegato, ma è anche mamma, vediamo, dal suo bel pancione. Quindi direi che il suo è anche un compito importante, perché lei ha in pratica che cosa? Un impegno verso il suo figlio anche. Sì, è vero. Per cui mi fa tanto piacere di lavorare su quel settore lì. Contribuisco con i miei figli, che ne avrò tre, alla crescita della domanda di un cibo buono e sicuro. Per cui la mission della mia professione va molto bene insieme con la maternità. Parlando un po' ancora del tema di quello che potrebbe essere la ragione per cui un'azienda sta facendo quello che sta facendo. È vero che all'inizio c'era la chimica e ci sarà sempre e noi proviamo di darle sempre una interpretazione nuova, cercando di rispondere a quello che ci richiede il mercato. Quindi non si tratta di una ricerca che trova qualcosa e lo butta sul mercato, ma si tratta di ascoltare il mercato e poi provare di trovare la soluzione a questo bisogno. A questo aspetto entra anche il mondo biologico. Quindi non è una contraddizione, è semplicemente trovare il modo giusto per rispondere ai bisogni degli agricoltori, che soprattutto in quello che riguarda la frutta e le articole, ha bisogno di soluzioni biologici. Quindi noi in Baia ci stiamo lavorando, adesso abbiamo anche acquisito AgraQuest, quindi saremo in grado di andare in questa direzione. Quindi voi fate veramente cultura e cultura, ascoltando anche i contadini, ascoltando quali sono le loro esigenze di chi lavora la terra, di chi si sporca le mani. Sporcare ovviamente in modo bello. Sporca le mani e va con le stiletti ad entrare nei campi, che quest'anno sicuramente abbiamo anche visuto momenti difficili. La siccità in questo paese in estate è stata veramente drammatico. Io provo di andarci ogni tanto perché mi è importante capire le preoccupazioni degli agricoltori. Solamente così, anche con la rete molto ampia che abbiamo sul territorio nazionale, con i nostri centri sperimentali, possiamo portare soluzioni al mondo reale qui in Italia. Baia se vuole anche coinvolgere i giovani. Che cosa fa un altro anno in Canada? In Canada abbiamo un bellissimo progetto che è nato di là, all'occasione del 100 anniversario di un istituto canadense importantissimo, che si sta creando una gara per presentare progetti come si chiama Feeding the Hungry Planet, quindi come alimentare la planeta affamata. E poi noi come Italia aderichiamo, facciamo parte di questo progetto e apriamo questa gara anche ai giovani italiani e alla fine potremo portare due italiane per passare una settimana in Canada per condividere queste idee e di ovviamente anche incontrare esperti su questo campo. La ringraziamo come ministro del delegato e come mamma. Grazie.